No, mi rifai la domanda perché Luca è troppo prolisso e io poi mi perdo Siamo in onda Nome Luca Cinzia Cognome Parizzi Figognini Nome su Instagram Parizzi Luca Life in street Salutatevi Ciao Sì di qua Ciao Giuri di dire la verità tutta la verità e nient'altro che la verità? Giuro Quante foto scatti in media prima di ottenere la fotografia perfetta? Ammesso che sia perfetta e se ne sarebbe da parlare tantissime vado di raffiche io spesso quindi riempio schede SD su schede SD Fai io idem Mille, duemila foto ne riuscirò a salvare forse dieci forse Qual è la tua mossa ninja per catturare uno sguardo spontaneo? Sì non ho ancora elaborato una mossa ninja forse devo studiarla però Cerco di essere il più invisibile possibile ma non ho una mossa ninja Se le tue foto potessero parlare cosa direbbero? Si farebbero delle domande probabilmente dove siamo chi siamo dove andiamo soprattutto un po' la marvulo delle domande del genere forse Le mie direbbero potevi fare meglio Se tu fossi una fotocamera quale sarebbe il tuo setting preferito? Semi automatico priorità d'apertura e il resto in un range che stabilisco Sì automatico Cosa fai quando qualcuno ti chiede di eliminare una foto quando se ne è accorto che gliel'hai fatta? Non mi è mai successo perché ho corso più velocemente di loro A me invece è successo e ho cercato di capire la persona che però non parlava italiano quindi avevo anche difficoltà a farmi capire che la stavo prendendo da dietro ma insomma niente alla fine era molto arrabbiato quindi gliel'ho cancellato in diretto Qual è il soggetto più strano che hai mai fotografato per strada? Direi la ragazza bottone che ho pubblicato qualche giorno fa era vestita da pulsante di cui fa la vestita Vabbè se vale il carnevale allora sì anch'io ho fotografato una sparabolle con questi occhi che le spuntavano Qual è il trucco per catturare l'espressione perfetta di qualcuno per strada? Le raffiche Beh magari anche se non l'ho mai fatto provare a farlo sorridere Cosa pensi quando qualcuno dice tutti quanti possono fare fotografia? Tecnicamente sì come gesto sì chiunque può farlo poi dipende perché lo si fa e come lo si fa ma sì Sì anche secondo me chiunque può fare fotografia Cosa pensi di chi scatta foto con il cellulare? Se sono appagati del gesto e delle foto che ottengono buono io non riesco io sono partita fotografando col cellulare quindi d'accordissimo anche a chi scatta col cellulare l'importante è divertirsi Vido l'importante è divertirsi Quale scatto ti ha fatto urlare ehi ma come ho fatto a fare questa foto? Ce n'è uno a Lisbona è una silhouette con una bottiglia di vetro illuminata dal sole mi è passato davanti questo tifio in silhouette ma la bottiglia era colpita dal sole l'ho vista ah che bella ah botta di questione di C eh lui ne ha tanto di C in questo campo eh sì sì e io non c'erò la foto wow che mi ho detto ah come cavolo ho fatto cosomai foto come ha fatto per essere a venire così brutta ma se le tue foto avessero una colonna sonora quale canzone sarebbe? Rebirth of Cool dei DJ dei DJ Camp Quartet che conosci solo te io voglio la colonna sonora della storia infinita quale sarebbe il tuo consiglio per uno che vuole diventare uno street photographer? passa tanto tempo in strada a scattare cerca di sfogliare qualche catalogo di di street photographer datati e non arrovelarti troppo su oh mio dio meglio full frame meglio APS-C però quello apre a 1.4 magari mi serve l'autofocus cibernetico scatta e dopo impari tanto così allora sicuramente abbi pazienza dati tempo che sono tutte cose che invece su di me poi non faccio mai perché vorrei sempre tutto subito divertiti hai mai fatto una foto che ti ha fatto emozionare mentre la scattavi? sì quasi tutte quelle che poi conservo cioè quelle che poi magari pubblico stampo ottengo sì 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 non tutte ma qualcuna sì porti con te un oggetto strano quando vai a fare fotografie e qual è? no ci sono già io di strano aggiungo altro no anch'io ho già a sufficienza di tutti zaini mica zaini cavalletto perché vabbè io faccio anche non faccio solo street quindi c'è un po' di attrezzatura varia è sufficiente quella qual è la differenza tra una buona fotografia e una fotografia straordinaria? mi verrebbe da dire una buona fotografia una fotografia dove c'è un'esposizione corretta dove c'è magari una composizione che funziona tutto è distribuito insomma in maniera interessante e solida fotografia straordinaria probabilmente è quando c'è questo ma c'è anche di più quindi magari fai interrogare chi la vede pone delle domande pone delle suggestioni importanti rimane rimane in testa ti fa venire voglia di tornare a guardarla più volte ecco forse la voglia di tornare a guardarla più volte potrebbe essere un indicatore niente hai risposto hai detto le stesse cose che volevo dire io ma non vale che inizi prima tu e poi dici le frasi come gestisci le critiche negative sulle foto? ma non le gestisco nel senso non mi toccano ne ho ricevute ne riceverò ancora va bene così se è una critica costruttiva l'accetto molto volentieri se ne fossero più critiche costruttive meno cuoricini però va bene anche i cuoricini se è costruttiva benvenga nel senso che se è per darmi dei consigli su come posso migliorare sicuramente di vedrei come poi anche in base a come una persona te le dice le cose ma comunque la vedrei come una cosa che mi può essere d'aiuto ecco su uno spunto magari su cui riflettere su qualcosa che magari nella mia foto non mi ero accorta che potevo fare diversamente insomma credi davvero a tutti quanti i complimenti che ti fanno sotto le fotografie su instagram no no direi di no anch'io secondo me magari qualcuno giusto così spara complimenti a raffica ma tanto per cosa pensi che manchi a molte fotografie di street photography a volte un soggetto ben definito non lo so passo qual è il soggetto più difficile da fotografare per strada le forze dell'ordine beh io direi soggetti in movimento se potessi collaborare con un altro fotografo chi sarebbe io sarei contento collaborare una parola grossa ma fare una passeggiata fotografica con Fred Ervog o con Grooyer che è ancora vivo Grooyer quindi non la chiamerò nella collaborazione una passeggiata fotografica sarei molto contento vabbè allora io consiglio McCarrie se potessi avere soltanto una lente per tutto il resto della tua vita quale lente sarebbe il 33 1.4 Fuji equivalente 50 mm invece io il 50 mm Fuji che è equivalente a un 75 75 qual è la tua regola principale nella composizione di fotografie di strada la regola dei terfi e poi distribuzione di pesi volumi colori pieni vuoto ma io una regola fissa non ce l'ho nel senso che cerco sì di stare anche un po' attente alla tecnica ma poi come come mi piace come viene viene cosa invidi tra le capacità del tuo compagno la spontaneità e quindi mentre io sono lì che calcolo i millimetri dell'inquadratura perché il cornicione destro effettivamente forse mi sporca la ripresa e devo capire lei invece ha una poetica molto più spontanea e a volte va a bersaglio subito ma una grande dolceffa io non riesco ad avere quella dolceffa nelle foto secondo me è un suo grande penso questo no allora io è un video che sì è tra le sue tante capacità che riesce quasi sempre a trovare il momento giusto per fare la foto che per me può essere perfetta perché magari si apposta a volte ci sta tanto ma a volte anche pochissimo passa magari da persona adatta che sta in quel contesto non so anche solo c'è il muro rosso passa qualcuno che è vestito in tinta oppure che è vestito l'opposto oppure passa un personaggio strano ma così cioè ammiro questa sua ma quello è il fattore C non è che sia il fattore C sì però è anche ha la capacità di vedere magari anche prima la scena no cosa fai quando incontri un altro street photographer per strada ah io cerco subito di attaccare il bottone anche io hai mai usato il tuo talento fotografico per impressionare qualcuno no però la sera in cui ho conosciuto Cinfer gli ho detto che sapevo fare le foto che era insomma vero però un po' funzionato sappilo no me li hai anche fatti vedere un po' delle tue foto se potessi esporre le tue fotografie in un luogo improbabile quale sarebbe nei luoghi dove le ho scattate mi piacerebbe molto esporle ma potrei dire comunque in mezzo alla natura quale consiglio daresti a te stesso quando hai iniziato a fare fotografia concentrati più sullo scattare e meno su su leggere recensioni di attrezzatura io direi fregatene di quello che pensano gli altri come dicevo prima si paziente con te stessa abbi pazienza e dati tempo ma soprattutto si curiosa e divertiti quale consiglio daresti invece al tuo compagno di non arrabbiarsi se la foto non viene o qualcuno passa in mezzo inopportunità al momento inopportunato di non arrabbiarsi di tenerla calma no io non darei nessun consiglio perché lui per me è bravo già così quindi qual è la cosa più preziosa che hai imparato dalla strada a lasciare andare eh io devo ancora impararla io ma a volte cioè mi arrabbio insomma o ci rimango male perché perdo il momento perdo l'attimo quanto è importante il fattore culo nella street photography tantissimo secondo me ma va aiutato tanto anche per me e lui ne ha cosa ruberesti al tuo compagno cosa c'entra e io cosa gli ruberei e c'è una foto che gli vorrei rubare io c'è una foto che gli vorrei rubare me gliel'ho anche detto anzi due scusa adesso una di un gatto che è bellissima che tra l'altro io quel giorno non avevo una piccina fotografica e gli ho detto mi fai la foto a questo gatto e adesso se la vuoi tenere per lui ma ci mancherai cosa non cambieresti della tua fotografia il colore l'atmosfera generale di tante mie foto allora vabbè sicuramente il colore perché a me piace scattare a colori ma poi anche lo stato d'animo un po' sì le emozioni che ci metto quando le scatto cosa proprio non ti piace invece della tua fotografia direi il fatto che al momento è ancora estremamente dipendente dagli agenti atmosferici la mancanza di luce che se non c'è luce non riesco a trovarle belle le mie foto qual è il difetto più grande del tuo compagno? in fotografia l'impazienza no ma dai ma non ha difetti russa russa russo è vero preferisci scattare a colori oppure in bianco e nero? colori diglielo però che inizialmente volevi in bianco e nero io ti dicevo ma colori più bello colori più bello io colori ovviamente se non si era capito cosa è per te F4? è una bella realtà se non ci fosse andrebbe inventata perché è uno spazio sicuro dove uno appunto non deve portare la competitività il fare il figo il dover fare il compito cioè ad esempio la mostra di Anani secondo me è qualcosa che mancava e andrebbe fatta ogni settimana una cosa così allora è una diciamo una sorta di grande famiglia dove comunque ti senti a tuo agio ti senti un po' a casa e hai modo anche di confrontarti con altre persone che poi alla fine magari scopri che anche loro hanno difficoltà a fare una foto ti rasserena anche il fatto che quindi si può sbagliare che nessuno è perfetto e si inciampa un po' tutti negli stessi errori a volte cosa pensi quando qualcuno ti dice che non sei un bravo street photographer come han detto già alcuni che mi hanno preceduto prima di me esticarci così chi se ne frega la gentilezza di cinzia chi è più bravo tra i due a lui diversi lei ad esempio quando fa natura è nuovissima hai mai chiesto al tuo compagno di mettersi in posa per fingere una foto street io forse te l'ho chiesto una volta avete mai litigato nelle vostre uscite fotografiche sì c'è stata la grande battaglia di Valencia i locali ne parlano ancora negli annali di storia ispanica sì no litighiamo spesso fatevi un complimento a vicenda e quella spontaneità appunto quella poetica le tue foto sono belle senza che tu studi sfogli cose beh a me le tue foto piacciono tutte quindi in una scala da uno ho fotografato un lampione quanto è originale la tua ultima fotografia no è abbastanza originale sì sì è originale sto pensando alla mia ultima fotografia cioè sono messa bene qual è il tuo nemico naturale nella street photography la ressa quando c'è troppa gente spesso smetto di scattare quando c'è troppa la confusione la confusione e poi anche la pioggia se potessi scambiare la tua macchina fotografica con qualsiasi oggetto magico quale sarebbe e perché no è già magica lei non c'è bisogno di scambiarla magari la famosa bacchetta magica se potessi vietare una cosa nella street photography quale sarebbe no non vorrei vietare nulla la street photography il suo bello è l'anarchia e la libertà nulla vi siete divertiti sì molto salutatevi ciao ciao Luca ciao salutate ciao ciao e invitate tutti quanti a iscriversi al canale certo like like campanella iscrizione fisso proprio sempre comunque iscriversi al canale iscriversi al canale a iscriversi al canale a iscriversi al canale